Oggi abbiamo solo quattro parole da esaminare. E di queste quattro parole a noi interessa fondamentalmente la terza. Perché l'ultima è un pronome personale, la seconda è un semplice articolo e la prima è un verbo. Però la traduzione italiana è corretta, poi che cosa si capisca solo Dio lo sa. La traduzione è sempre una compagna infedele, perché sì traduce le parole, ma molto spesso il concetto resta da un'altra parte. Chiedere che cosa significa regno, venga il tuo regno, regno che accidenti vuol dire. La nostra esperienza a livello di conoscenza storica ci dice una cosa e il testo biblico ne dice un'altra, anzi tutt'altra. E qui nasce l'equivoco. Nasce l'equivoco perché noi adoperiamo lo stesso vocabolo che adoperavano gli antichi, però abbiamo contenuti diversi e quindi non passa più. Il dato culturale di allora non passa più attraverso lo stesso vocabolo oggi. Questo è il problema della traduzione dei testi biblici, ma di qualunque altro testo antico. Identica parola, significati diversi, equivoco nel messaggio. Umberto Eco diceva che tradurre è dire quasi la stessa cosa. Perciò sarebbe molto meglio leggere sempre i testi in originale. Ma alla casa dello studente mi hanno detto non sempre è possibile. Qualche volta sì, qualche volta no. Pazienza. Bene. Partiamo da un concetto elementare per esplorare questo campo. Alla linea 14 c'è una specie di bozza concettuale per cui riusciamo ad abbandonare l'idea di regno che noi abbiamo che si chiami Spagna, che si chiami Inghilterra, che si chiami Tailandia. Ecco, abbandoniamo questo concetto. E proviamo ad assumere questo nuovo concetto anche se ci costa. Dunque, il regno di Dio sarebbe il progetto primo e la sua attuazione poi per la realizzazione completa dell'uomo. Per noi il regno non è un progetto. Però nel mondo biblico Basileia è un progetto. Per noi il regno è un dato in atto. Per il testo biblico il regno è una realtà che si esperimenta nella storia e che poi si possiederà o si vivrà in pienezza oltre la storia. Per questo il regno di Dio può essere rozzamente definito progetto divino e sua attuazione per la realizzazione completa dell'uomo. Completa vuol dire che non manca niente. Manca niente di che cosa? Voi provate a immaginarvi in un paese dove la ricchezza è così grande per cui tu vai in negozio prendi e non paghi. Vai in una concessionaria automobilistica prendi e non paghi. Vedi una bella casa prendi e non paghi però è tua. C'è bisogno di soldi in quel paese lì? No. Allora vuol dire che i soldi ci realizzano in una situazione diversa da quella. Ma allora basta cambiare la situazione perché i soldi abbiano valore o non abbiano valore per niente. Ci siamo? Ecco. E allora che cosa significa realizzazione dell'uomo? Significa togliere prima di tutto peschiamo Berkeley e vediamo la Pars Destruens viene tolto ciò che disturba la vita serena dell'uomo. Questa è la prima parte della realizzazione. E la seconda l'uomo ha tutto ciò non che desidera soltanto ma anche ciò che non desidera ma gli fa bene. Progetto divino e attuazione per la realizzazione completa dell'uomo. Bene. Naturalmente questo progetto divino non è che lo faccia l'uomo se non sarebbe progetto umano. Un progetto divino lo fa lui ma l'uomo fin dalle origini si è fatto un suo progetto. Ha dettato lui le regole per essere felice. E noi vedremo come questo regno dell'uomo voluto dall'uomo è stato pian piano costruito. Secondo quali criteri? In base a quali principi? E per questo motivo daremo una lettura veloce di ciò che i biblisti chiamano la preistoria della salvezza. Non faremo tutto quindi non incominciamo da Adamo ed Eva per rimanere ad Adamo ed Eva. Diamo un'occhiata seguendo un filo rosso che ci aiuti a capire come si è sviluppato la situazione attuale in cui viviamo. Certamente noi ricorriamo a testi che sono mitici. Tutti quanti sappiamo che Adamo ed Eva non sono esistiti ma quel racconto è una forma di riflessione teologica fatta attraverso una narrazione. Caino e Abele non sono esistiti ma sono una riflessione teologica fatta attraverso un racconto un racconto l'amec idem come sopra diluvio universale beh, penso che siate sufficientemente adulti per capire che è un altro mito sono tutti racconti che noi potremmo tradurre in un bellissimo dialogo di Platone i dialoghi di Platone sono tutti inventati però rispecchiano la scuola filosofica di Socrate questi racconti sono tutti inventati ma rispecchiano quello che era la profonda riflessione sapienziale che questi uomini hanno fatto sul mistero dell'esistenza e siccome l'esistenza guarda caso comporta sempre esperienze dolori gioie speranze uguali perché l'uomo è sempre stato uomo cercare di sondare il loro pensiero aiuta a capire noi per questo diamo un'occhiata sempre veloce perché il troppo storpia daremo un'occhiata a questi miti li daremo semplicemente però pescando fior da fiore del mito di Adamo ed Eva noi prenderemo in considerazione solo l'incontro con il terzo personaggio il serpentello di Caino e Abele non ci interessa chi sia la moglie di Caino certo non sua madre perché il testo biblico dice che Caino prese moglie e da dove viene fuori solo Dio lo sa se stiamo al concetto elementare Adamo e Eva la primitiva comunità umana fatta da due persone sì ciao buonanotte Caino dice a Dio se io vado nella terra di Not e trovo qualcuno potrebbe uccidermi ma scusa quattro uno morto tu sei Caino Adamo ed Eva restano lì e tu te ne vai chi trovi eppure lì è scritto e allora l'umanità primitiva è fatta da un lui e da una lei poi spudoratamente l'autore sacro scrive che Caino trovò sua moglie la conobbe e nacque Enoch certamente questa donna non nasce dal sogno di Caino è una donna concreta perché concepisce e mette al mondo un figlio bene detto questo noi non affronteremo tutte queste cose ma affronteremo quello che ci occorre per affrontare questo tema dunque Adamo ed Eva Caino e Abele Lamec e la torre di Babele vediamo quello che ci occorre per Adamo ed Eva siamo alla linea 23 ma il serpente disse alla donna non morirete affatto anzi Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste e si aprirebbero i vostri occhi sareste come Dio conoscendo il bene e il male allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare gradevole agli occhi desiderabile per acquistare saggezza prese del suo frutto ne mangiò poi ne diede anche al marito che era con lei e anche egli ne mangiò buon appetito stiamo ancora digerendolo sto frutto naturalmente questo testo noi lo conosciamo lo abbiamo letto tante volte quest'oggi cerchiamo di fare un passo in profondità per cercare di capire meglio che cosa dice certamente quel versetto linea 23 non morirete affatto è la negazione di ciò che Dio aveva detto nel capitolo precedente noi stiamo leggendo un piccolo brano del capitolo terzo della Genesi nel capitolo secondo andate della linea 31 voi trovate quello che era successo prima il Signore Dio diede questo comando all'uomo tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare perché nel giorno in cui tu ne mangerai certamente dovrai morire questa si dice parola di Dio è perché è Dio che parla sta dando uno si va sta dando un ordine alla linea 23 invece noi notiamo che il serpente nega quanto Dio ha detto quindi dietro a quel non morirete affatto c'è la negazione della parola di Dio questo è il primo dato importante da tenere presente il secondo dato lo trovate nella linea 23 24 scritto in grassetto dove ci sono dei giochi che in italiano non compaiono anzi Dio sa primo rettangolino andate a vedere il primo rettangolino della linea 25 sulla destra ci sono due vocaboli due disegnetti il secondo disegnetto si legge Elohim che è Dio il primo osservati i segni più grossi c'è una specie di apostrofo che è Eloyot poi c'è una tettoia che è un dalet e poi c'è un archetto di fionda che è un haim il verbo è Yadach alla linea 23 viene tradotto in italiano è colpa mia che l'ho tradotto io con sapere Dio sa adesso fate una fatica sempre in ebraico andate alla fine della linea 25 tra le due i due riquadretti fra i due rettangolini c'è una parola rimasta isolata sulla sinistra notate che è la stessa lasciate perdere le vocali perché ovviamente le persone sono diverse e anche il modo è diverso avete lo Yot il Dalet Lohaim è la stessa radice Dio sa l'uomo sa se noi volessimo in qualche maniera riprodurre il gioco di parole che c'è nel testo originale dovremmo dire anzi Dio conosce che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbe i vostri occhi sareste come Dio conoscendo il bene e il male oppure Dio sa sareste come Dio sapendo il bene e il male è messo in antitesi in parallelismo antitetico il sapere di Dio con il sapere dell'uomo il verbo è lo stesso quindi qui c'è qui sotto c'è una polemica ferocissima di ciò che Dio sa a noi non ce ne può interessarti meno a noi interessa sapere noi come Lui quindi da Lui non si attinge un bel niente andiamo per ordine anzi Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio dunque l'uomo ha una potenzialità formidabile può essere come Dio chi impedisce che l'uomo da questa potenzialità ne ricavi un atto dal poter essere come Dio a essere come Dio c'è un passaggio molto grande tra l'essere intelligente in potenza ed essere intelligente in atto c'è un fondo schiena piatto sulla sedia e ore passate a studiare tra la potenza e l'atto c'è un passaggio enorme che cos'è che impedisce a questo uomo che può essere come Dio a essere come Dio l'obbedienza se l'uomo obbedisce a Dio non diventerà mai come Dio Dio sa che se voi ne mangiate disobbedienza diventerete come Dio attuazione della potenza ma se continuerete ad obbedire cioè non mangiate non diventerete non diventerete mai come Dio dunque conclusione semplice chi sta rovinando l'uomo Dio ovvio in questo ragionamento è chiaro perciò il credente sarà sempre un uomo non realizzato secondo questo testo non vi dice niente questo concetto nella nostra società oggi se tu sei credente non puoi essere scienziato ma scherziamo rubia è un Nobel ed è credente la direttrice del CERN di Ginevra è scienziata ed è credente dove è scritto che chi è credente non può essere scienziato ma se voi oggi andate in televisione e dite che siete credenti c'è uno sguardo di compassione vi è chiaro il concetto? da dove viene questo atteggiamento? dai primordi questi qui pensano di essere moderni e sono vecchissimi Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio quindi vuoi veramente realizzare te stesso rifiuta Dio rifiuta di dipendere da Lui è chiaro questo? bene dunque il primo elemento che costituisce il regno dell'uomo è la negazione della parola di Dio il secondo elemento è la cancellazione di qualunque dipendenza da Lui perché dipendere da Lui significa non realizzarci ma qual è l'altra faccia di questa indipendenza da Dio? il diventare ognuno Dio di se stesso e dove si manifesta in maniera particolare questo essere Dio di se stessi nello stabilire ognuno per conto suo il bene e il male i genitori mi stanno di traverso li ammazzo senza rimorsi perché perché io decido così il mondo greco era anche credente però la fede non toccava la morale nel mondo antico il rapporto con gli dèi era una cosa la vita morale era un'altra e la vita morale veniva gestita dalla scuola filosofica che tu sposavi sposavi Platone avevi un certo tipo di morale sposavi Aristotele ne avevi un'altra molto vicina ma diversa sposavi lo stoicismo l'epicureismo ognuno aveva dunque una morale secondo il pensiero filosofico che riteneva più idoneo ma una morale c'era qui invece se voi notate c'è il rifiuto di qualunque tipo di pensiero l'io diventa ciò che stabilisce il bene e il male i greci non dicevano io dico che questo è bene ma dice pensiero greco la filosofia che a me piace di più dice che questo è bene e questo è male cioè l'individuo greco riconosceva che al di sopra di lui c'era qualche cosa di importante chiamiamolo pensiero chiamiamoli valori diamole il nome che ci pare però al di sopra dell'individuo c'era qualche cosa qui invece viene proposto un individuo sciolto da qualunque elemento che possa essere superiore a lui valore concetto divinità via tutto è l'individuo che stabilisce ciò che è bene e ciò che è male io non lo so ma leggendo io il vizio non c'è solo quello ne ho tanti altri di leggere il Corriere della Sera altri avranno un altro vizio parallelo perché leggono qualcosa d'altro ma provate a leggere i giornali e provate ad analizzare ciò che leggete con questo criterio vi accorgete che questa radice che stiamo esaminando nel libro della Genesi con Adamo ed Eva oggi non ha bisogno di essere dimostrata ci viene mostrata noi dobbiamo solo prenderne atto il mondo della politica il mondo della finanza il mondo del commercio il mondo del clero applicate la lettura che abbiamo appena fatto a ciò che leggiamo nei giornali e vedrete che le cose tornano perfettamente quando l'uomo esclude il trascendente chiamalo come accidenti ti pare ma quando esclude il trascendente della sua vita quale riferimento etico può avere solo se stesso non ha altro potremmo discutere parecchio su che tipo di trascendente perché c'è il trascendente che dice va e ama anche il tuo nemico e c'è un altro trascendente che dice vai uccidi tutti quelli che non sono della tua religione si può discutere ma quando c'è un trascendente una verità giusta o sbagliata esiste a cui tutti obbediscono e allora ti sai regolare ma se io possiedo una verità tu un'altra e ci scontriamo su un oggetto dove applichiamo io la mia tu la tua chi prevale quello che dà il cazzotto più forte tu taci decido io boom fine del problema quando un individuo decide di essere dio di se stesso e l'altro decide di essere dio di se stesso il terzo decide di essere dio di se stesso il risultato del rapporto sociale non è altro che la soprafazione e la violenza perché non c'è niente di condiviso è un ragionamento semplice sì è semplicissimo gli orientali lo facevano con il raccontino proviamo infatti adesso a vedere i nostri due amici Caino e Abele allora il testo che a noi interessa non è tutta la lenzuolata su questi due personaggi ma è un versetto solo linea 44 Caino parlò al fratello Abele mentre erano in campagna Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise chiaro? a noi non interessa di più proviamo a fare un pochettino di scavo alla linea 43 sulla destra il primo rettangolino trovate il nome di Caino la prima lettera grossa è un Q sarebbe un Kof in ebraico la seconda è uno Yot l'abbiamo già visto prima e quella specie di bastoncino lungo è una N finale sotto il Q sotto il Kof avete una lineetta che è una A poi c'è una virgolina che è l'accento e sotto lo Yot avete un puntino che è la I di per sé bisognerebbe pronunciare K I in K I in sono due le I di